E' un onore e oltre che un piacere partecipare ad un evento di solidarietà. Io sono di Cesena, ho tanti amici che hanno subito danni provocati dall'alluvione di maggio e quindi ci tengo ancora ulteriormente a partecipare. Ringrazio personalmente la città di Rimini che ci ha dato la possibilità di portare avanti questo evento. E spero che tutto vada nel migliore dei modi. Tra l'altro, il rivale in panchina per l'altro team ci sarà Arigo Sacchi, il suo mister? Sì, il mio grande maestro, il mio mister. Mi immagino già quello che potrebbe succedere. Mi piacerebbe perché comunque sarà una sfida divertente. Ha già in mente il modulo? Ma più o meno sì, adesso studio con calma la rosa che ho a disposizione. No, speriamo, beh, primo che nessuno si faccia male. Comunque sarà molto caldo, quindi credo che ci fermeremo spesso. Abbiamo l'onore di avere il più giovane in campo, tra l'altro, penso. Uno dei, uno dei, dai. Forse non sono proprio il più giovane ma sono uno dei. Tra l'altro, insomma, in una partita del cuore che tocca il tuo territorio. Assolutamente, il mio territorio è il mio cuore. Io c'ero e ero lì presente a dare una mano fisicamente e quindi appena mi hanno detto vuoi venire a fare la partita per la Romagna? Ho detto assolutamente, se avevo un impegno lo cancellavo. L'avrei cancellato sicuramente e quindi partecipo con tutto il cuore e con tutta l'energia possibile per questa bellissima iniziativa per la mia terra. Che ruolo hai? Non lo so, sarà il mister a decidere. Io gioco sulla fascia, quindi o terzino o esterno. Sogno la punta, ma me la devo guadagnare il primo posto da centravanti. Tra l'altro, in uno dei ruoli dove si corre di più, ma giustamente te lo sei tra i più giovani. Sì, e poi ho anche la corsa. Non ho i piedi buonissimi, c'è da dire, però corro, corro tanto. Non si può avere tutto, hai la voce, i piedi se ne fa un po' a meno, tra l'altro in un'estate piena di impegni per te. Esatto, tantissimi sono gli impegni e infatti ho deciso di prendere un'altra strada, quella del cantante e non quella del calciatore, per ovvi motivi. Il bomber non sono io Moreno, è Moreno il rapper. Io sono Moreno il biondo che va bene in difesa, io non faccio gol, io li evito. Ma no, che ce la fai anche tu a farli. L'importante è che, a parte questo, il gol lo sta facendo Rimini, assieme a tutta la sua gente, al suo turismo e a tutte le persone che arriveranno in questa località, che sicuramente arriveranno da tutte le altre parti della riviera adriatica. E chi ci seguirà nelle tv potrà anche proprio col 45597 essere solidale a questa iniziativa. Una Romagna presente, che abbraccia nel modo del ballo, ma nel modo appunto anche dell'aiuto, con questa ricerca, questo sostegno di fondi, tutti gli alluvionati, chi ancora purtroppo ha grandi difficoltà e ce ne sono tanti ancora. Un abbraccio proprio della Romagna, anche in conferenza stampa c'è stato modo di far vedere l'accoglienza romagnola e il ballo romagnolo. Ma sì, perché come ho appena detto è il nostro segreto, un segreto fatto di storia, di tradizione, che nell'accoglienza del turismo e nell'accoglienza della musica fa della Romagna una straordinaria regione.